Seminario della Cisle di Agrigento contro la violenza sulle donne, tra il dibattito, la mostra Donnarte sul corredo matrimoniale e la formazione delle donne straniere. Le interviste di Irene Milisenda. E anche la Cisle accanto delle donne, oggi un convegno per parlare appunto contro la violenza sulle donne, ma non solo, la prima mostra Donnarte. Sì, oltre che di violenza oggi parliamo anche dell'impegno delle donne, soprattutto in campo lavorativo. Parliamo di tutela, come aiutare le donne all'interno del campo lavorativo e come fare in modo che nonostante i molteplici impegni si hanno sia in campo familiare, nella cura della famiglia, dei propri cari, si riesca comunque a poter lavorare di più, a poter produrre e a guadagnare tanto quanto l'uomo, perché sappiamo benissimo che oggi non si può accedere né all'orario straordinario né ai progetti aggiuntivi, semplicemente perché si ha l'interesse o la necessità di doversi prendere pure cura di ciò che si lascia a casa. E noi attraverso l'impegno di oggi faremo delle proposte all'amministrazione, in modo tale che a costi irrisori si riesca a far fronte a questo problema. Noi siamo ogni giorno accanto alle donne, stiamo cercando di dare un impulso nuovo all'attività del sindacato, ma anche dare un contributo alla società agrigentina, al nostro territorio, perché crediamo che l'impegno della donna nel sindacato e nella società è fondamentale per far crescere complessivamente il territorio. Noi abbiamo tentato in questi anni di modificare anche i comportamenti all'interno dell'organizzazione sindacale, proprio per dare possibilità alle donne di essere più partecipative e ci stiamo pian piano riuscendo. Questo è un impegno che deve continuare, ovviamente non può essere il festeggiare la ricorrenza, perché non è assolutamente un fatto positivo, però questo ci deve dare l'aiuto e l'impulso per dare la possibilità a più donne di partecipare alla vita, sia sindacale ma nel caso in cui fosse necessaria anche la vita politica, perché poche donne siete ai vertici o perlomeno partecipate attivamente. Questo perché la società nostra è al maschilista e appunto per questo ne dobbiamo dare un impulso diverso. La mostra che vedete alle mie spalle sono 30 artiste donne che hanno chiesto i locali per esporre le loro produzioni e l'abbiamo inclusa, la faremo ogni anno, daremo un piccolo spazio per tutto l'anno anche all'interno della CIRLE per dare possibilità di esprimere alle nuove artiste. Una considerazione che volevamo farla, dobbiamo cambiare un po' l'approccio per risolvere il problema donna e di genere. Cambiare l'approccio significa affrontare i temi nella maniera più corretta. Oggi ho ascoltato diverse trasmissioni televisive e radiofoniche che hanno un po' creato confusione, secondo me non hanno centrato bene l'obiettivo perché quando si parla di crisi, la crisi colpisce tutto il mondo del lavoro e non solo il mondo della donna. Quindi a questo punto di vista l'impegno di tutti noi deve essere quello di cercare l'approccio giusto e l'approccio giusto si può trovare semplicemente mettendosi al fianco le donne per creare positività e creare e generare valori in questo territorio.